Schierita nel gelacalcio finalmente, dopo tante tribolazioni, oggi è arrivata la conferma che la squadra parteciperà regolarmente al campionato di Sredì che scatterà domenica prossima con la trasferta di Pomigliano d'Arco. Scenderà in campo una formazione rabberciata, ma Gela, il gelacalcio ci sarà. La società biancazzurra rimane alla famiglia Tuccio, ma con un nuovo ingresso che assoprirà il 40% del club. Si tratta di un'azienda del nord Italia, gestita da due fratelli gelesi che oggi nella conferenza stampa che si è tenuta al comune erano rappresentati dall'avvocato Fabio Fargetta. Angelo Tuccio avrebbe voluto cedere l'intero pacchetto, ma i nuovi soci hanno detto no, va bene il 40%. Angelo Tuccio durante l'incontro di oggi in municipio ha spiegato i problemi che interessano l'aspetto lavorativo della sua azienda che ha riferito sono tremendi. Il mio mondo lavorativo sta crollando, ha rimarcato, ma vogliamo continuare ad offrire passione alla città in ambito calcistico. Abbiamo un anno di vita importante adesso che ci siamo dati con l'ingresso di questo nuovo gruppo che rileverà il 40% della società, quindi arriverà un aiuto, un braccio importante per portare avanti questa società. Io ovviamente spero che questo funzioni, farò in modo che questo abbia i suoi effetti positivi. Ma sta anche a tutti gli altri darci una mano d'aiuto. Io non so più come dirlo, non conosco tante lingue, diciamo così, a parte il gelese e l'italiano. Dateci una mano d'aiuto, cioè aiutate questa squadra a diventare uno dei corpi fondanti di questa città. Non lo è, non ci prendiamo in giro, finora non lo è stato. Quindi questa squadra e questa società vanno aiutati se si vuole assicurare un certo futuro. Altrimenti ci sediamo a tavolino, chiudiamo tutto e ce ne andiamo a casa. Diciamo che però una volta tanto, nonostante la sua analisi non fa una grinza, questa crisi devastante, perché forse davvero il termine più appropriato è proprio quello, ha dimostrato che però non c'è totale disinteresse attorno a questa squadra, se i tifosi si mobilitano, la città si mobilita in un certo senso. E comunque ci sono stati dei gruppi che hanno dimostrato effettivamente interesse a rilevarla. Chi ama questa squadra, questa società si mobilita e non ha dormito da sette giorni, probabilmente c'è gente anche che non riesce a mangiare, io non ho dubbi che questa squadra abbia degli affeccionados importanti, che abbia dei tifosi importanti, anche in un numero considerevole. Lo abbiamo sempre saputo, lo abbiamo sempre visto. E' tutto il resto che manca, Franco, cioè la possibilità che questa squadra si senda davvero una struttura di questa città, perché vuole fare grandi cose. Oggi questi problemi diventano gravi, perché siamo in serie D. Durante la conferenza stampa di oggi, la sindaco Domenico Messinese ha riferito che sono stati affidati i lavori allo stadio Presti. Ad eseguirli sarà la ditta Anastasi di Villa Franca Tirrena, che ha vinto l'appalto con un ribasso del 5,25% sull'importo a base d'asta di 146.500 euro. L'aggiunta al completo acquisterà l'abbonamento e sarà tra i promotori di questa campagna abbonamenti del Gela. Ci mancherebbe, predicare bene e razionare male non mi sembra corretto, però voglio sottolineare che un'impresa che lavora fuori, che non vuole visibilità, è venuta qui per dare l'opportunità di crescere al Gela. Allora, questo deve fare riflettere. Noi, in questi giorni, ho assistito, che noi gelesi siamo stati molto bravi a criticare o ad editare. Qualcuno è venuto da fuori e in silenzio, e continua in silenzio, invece ha dato una possibilità di rilanciare. È un'opportunità che dobbiamo cogliere. Se, non me lo auguro, il prossimo anno dovesse nuovamente ripresentarsi una situazione del genere, è inutile cercare qualche ed uno da additare, ma è forse meglio che ognuno si guardi in faccia e dica cosa ha fatto lui. Grazie. 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 Grazie.